Dal libro del profeta Malachia Allora parlarono tra loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memoria fu scritto davanti a Lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno, dice il Signore degli eserciti, la mia proprietà particolare nel giorno che io preparo. Avrò cura di loro come il padre a cura del figlio che lo serve. Voi allora di nuovo vedrete la differenza fra il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Beato l'uomo che confida nel Signore Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge, medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù disse ai discepoli Se uno di voi è un amico, e a mezzanotte va da lui a dirgli Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio, e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a dargli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene io vi dico, chiedete, e vi sarà dato, cercate, e troverete, bussate, e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpa al posto del pesce, o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.